Ancora proteste e manifestazioni per il film che ride Maometto. Oggi per la prima volta sono scesi in piazza un migliaio di persone a Kabul. La protesta si è svolta in un clima di grande violenza, tanto che ci sono stati spari e scontri con la polizia. Si stimano i circa 40 feriti e numerosi danni in città. Previste manifestazioni anche in Pakistan e a Gaza, mentre la Malesia in via preventiva ha vietato l'accesso web al video blasfemo. Ma le proteste sono arrivate anche in Europa, momenti di tensione in Belgio, vicino ad Amber, dove è forte la presenza della comunità musulmana. Manifestazioni anche a Londra e a Parigi, dove le ambasciate americane sono state oggetto di scontri con la polizia. Ad aumentare la tensione arriva anche l'estrema destra tedesca. Il gruppo Pro Deutschland ha annunciato l'intenzione di voler proiettare nel cuore di Berlino il film anti-Islam.